Attivismo civico per la valorizzazione del territorio. Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e proprio esponente in aula, Santo Bagalà, il Movimento Insieme per Gioia ha chiesto al nuovo governo cittadino targato PEDA l'applicazione del cosiddetto baratto amministrativo, una misura di agevolazione fiscale introdotta dallo Sblocco Italia. Si tratta di una norma che consente ai comuni di affidare ai cittadini singolo o associati determinati interventi come la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di alcuni sgravi. In parole povere, i residenti morosi che non riescono a pagare le tasse potranno commutare il lavoro utile per la cittadinanza, quale pulizia, abbellimento delle aree verdi o interventi di decoro urbano. In questo particolare momento di crisi economiche, scrive il responsabile economico di Insieme per Gioia Maria Grazia Sacco, riteniamo importante che l'amministrazione dia un chiaro segnale di vicinanza ai problemi dei cittadini di questo territorio. Il comune, continuo ancora, potrebbe deliberare attraverso un apposito regolamento riduzioni o esenzioni per un periodo limitato e definito, in base al tipo di attività posta in essere. La proposta del baratto amministrativo ha già avuto successo ed è diventato una realtà per molte altre città, come ad esempio Andria e Trani. Vorremmo, conclude ancora il rappresentante di Insieme per Gioia, far passare il messaggio che il senso civico e il senso di appartenenza al nostro comune è ancora doveroso e importante. La proposta è stata accolta con entusiasmo dal primo cittadino e sarà valutata nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale, mentre il movimento Insieme per Gioia si è detto disponibile a dare il proprio contributo ai particolari e alla definizione dell'applicazione del baratto amministrativo definendone insieme i criteri e le modalità.